Esco dentro questo borsellino Si vedono, no? Ehm... no Come? La prima è qui? La seconda un po' più al centro E l'ultima precisamente qui Ok Ti chiedo a Jerry di controllarle Che siano normali, che non ci siano specchi, conigli No, sono delle monete, non sono forate Sono pesanti e sono tre monete Ok, però se noterete bene Una di queste tre monete è truccata Precisamente Aspetta, non mi ricordo manco io quella Aspetta Ah, questa Essa ha una proprietà Quando gira Si stoppia E diventano due monete Così Oh, io ero piano Una, due, tre e quattro Oltre che a vederle l'importante è Sentirle Una, due, tre La prima Fola È in cielo e Presa Una Due e tre monete La seconda La seconda moneta Sentirete il suono Sentirete quando arriva Allora, aspetta Ecco E sentite il suono Due monete Adesso Due monete da un lato E due dall'altro La terza è velocissima Vola Ed è già Arrivata L'ultima Al contrario della terza Sarà la più lenta di tutte Va lentamente in mano In slow motion Tre monete Una, due, tre E quattro monete La prima moneta Così Cade in mano E la seconda Si sente entrare Ho sentito Basta poco però Ovvero un soffio Ti chiedo di soffio Che le monete si avvicinano Ma si avvicinano Così tanto Da diventare Una Solo Grazie a tutti Grazie mille Jerry Sono bravissimi